Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto l'amicissia Trompanda e un'orsa dell'episodio numero 9 l'orso di Andalo. Buon ascolto. Dopo che Giuliano parlò con Matthew, il responsabile del progetto Life Ursus, spiegandogli la situazione dei orsi in Trentino. Da Ursula venne Chan, che insieme alla sua amica orsa andarono al parco di Andalo per ammirare lo scivolo in legno, raffigurato un orso, sperando di godere una piacevole giornata. Purtroppo una volta che Chan e Ursula furono sul posto, trovarono lo scivolo del parco di Andalo danneggiato. Qualcuno aveva tranciato la testa all'orso. Ursula, impallidita dall'orribile visione, disse a Chan. Chi sarà stato a compiere questo gesto crudele? L'odio umano è stato capace di rovinare persino un parco dove i bambini giocano felici. Questo è assurdo. Chan concordando con Ursula rispose. Concordo con te, Ursula. È difficile da credere che gli adulti coinvolgano pure i bambini a questa difficile situazione. Mi dispiace molto, Ursula, per l'accaduto. Andiamo via da qui. Dirigiamoci in un posto più tranquillo. Ursula, asciugandosi le lacrime, con coraggio insieme a Chan si diresse nel bosco, allontanandosi dal parco di Andalo. Lungo la strada, Ursula e Chan incontrarono una volpe che dimostrando di sapere la missione di Ursula, gli disse. Ciao, Ursula, amica orsa. Mi fa onore che hai reagito con facilità al triste momento. Non capisco nemmeno io perché l'uomo nutre tanta cattiveria per gli orsi. Eppure sono stati loro a introdurli in Trentino. Spero, Ursula, che riuscirai a portare la pace in Trentino. L'orso merita tranquillità. Finito di ascoltare, Ursula e Chan si incamminarono in una pineta del Trentino, trascorrendo una piacevole giornata, ammirando la natura e ascoltando il dolce suono delle cascate. Compiendo pure gesti benevoli, aiutando le persone a gradire la presenza degli orsi. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Simone. Ciao. Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto l'amicizia trampando è un'orsa. Dell'episodio numero 10. La ricerca dell'orso. Buon ascolto. Dopo che Ursula trascorse la giornata con Chan ascoltando il suono delle cascate e aiutando le persone a gradire la presenza degli orsi, verso sera dalle due amiche arrivò l'orso John, MJ5, che chiedendo aiuto ad Ursula gli disse. Ursula, amica orsa, avrai bisogno del tuo aiuto. È da qualche giorno che non riesco più a vedere il mio amico Amir, M62. Eravamo d'accordo che ci saremmo incontrati per la pesca alle trote. Ma non è venuto. Mi potresti aiutare? Ursula, essendo un'orsa, altruista e di buon cuore, insieme a Chan aiutarono John a ritrovare il suo amico orso, percorrendo la strada dove credettero che si fosse diretto. Giunti in una zona impervia fra Molveno e San Lorenzo d'Orsino, John e le sue amiche riuscirono a trovare l'orso Amir, purtroppo senza vita. John, correndo dal suo amico, si stese accanto a lui, dicendo, come ha potuto l'uomo uccidere il mio amico Amir. Noi orsi non siamo i giocattoli delle persone. Siamo esseri viventi e vogliamo la nostra dignità. Ursula, tu mi hai sempre detto di non ascoltare il desiderio di vendetta. Ma ciò che ha fatto l'uomo al mio amico è grave. Non riesco a sopportarlo. Ursula, comprendendo il dolore di John per aiutarlo a calmarsi, disse, Comprendo il tuo dolore, John, ma credo che sia difficile capire la causa della morte di Amir. Potrebbe trattarsi di avvelinamento. Oppure è stato ucciso in un combattimento contro un rivale in amore. Non lo so. John, promettimi di non vendicarti. Ti prego. Un errore potrebbe nuocere la tua vita. John, sospirando, si quietò, promettendo a Ursula che non si sarebbe vendicato, decidendo di passare la serata con Ursula e Chan per superare il trauma subito. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dall'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao.